e guardo trinta vai mamma che bella questa playstation 4 cioè mio figlio la voleva ora posso compaglierla per però ne sta fatta i sottocoppi fin l'auge lo so ecco l'ho trovata oh teruna cosa vuoi che bella questa playstation arrivo proprio dalla calabria per comprarla perchè ho visto questo ero onyx e mi era piaciuto tanto Focumeu e Froyab e Malanova il mio figlio sarà contento che vergogna compriamo questa playstation mamma mia eccola oddio ce l'ha fatto ce l'ho fatta sto ricordando che è confusa mamma che bella questa playstation ma ci accatto il mio figlio che vergogna sto sarebbe contento 500 gb disponibili tre prezzi 100 100 pezzi finisce la play mo gliela compro a mio figlio eh va bene la calabria sarà fiera eccola non ce l'ho fatto tu dici cosa ti rifi... e via mamma che bella questa playstation mio figlio me l'ha sicuramente sono venuta proprio dalla Calabria fino a qua che vergogna 100 pezzi rimanenti la Calabria sarà fiera devo comprarla a mio figlio io sto raccolando tu mi rendi con